Ciao Fabrizio, oggi stiamo con Fabrizio che è un struttore di Zumba, giusto? Raccontaci un po' la giornata di oggi. Esattamente, allora oggi io sono stato fortunato perché ho festeggiato anche il mio compleanno insieme a tutti i ragazzi. Auguri! Grazie, grazie. Ogni anno mi ritrovo sempre qui e facciamo una festa bellissima, veramente pazzesca. Tutti carichi, tutti energici, è stato bellissimo. Abbiamo ballato tutto il tempo, quindi la prossima volta direi che posso venire anche loro, no? Assolutamente sì! Dovete venire! Perché non sapete cosa vi avete perso ragazzi. Allora, volevo sapere tu di dove arrivi? Allora, io sono di Milano, sono nato come ballerina non professionista, quindi ho sempre fatto l'accademia di danza, poi ho studiato, ho ballato in televisione, in teatro e poi mi sono avvicinato al mondo della Zumba e faccio questo nel fitness, anche mi piace un sacco. Allora, tu hai una scuola qui a Milano? No, io lavoro in varie scuole, nelle zone di Assago, fuori Milano, sì, varie scuole o palestre anche, sì. Chi ti vorrebbe contattare per fare, non lo so, uno stage con te? A chi dovrebbe contattare? Allora, potete scrivermi direttamente a me su Instagram, sul mio profilo Instagram o Facebook, Fabrizio underscore, quindi trattino basso, Sina, S-I-N-A, oppure Instagram o Facebook, Fabrizio Sina. Fabrizio Sina, e infatti seguitelo, 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 perché il top è detto, poi io l'ho visto ballare! Mamma mia, mo, vengo da te! Troppo gentile, sei troppo gentile! Sei fantastico, complimenti Fabrizio e un bocca al lupo anche alla Fabiana che ha organizzato veramente questo evento. Fabiana numero uno, su Milano numero uno, veramente. Il top dei top! E allora mandiamo un bacione a tutti voi e anche alla Fabi, super Fabi! Alla prossima, al prossimo anno, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!